partiti scarsa verso l'esterno cuore di pinto che rimane a largo di tutti mentre in vantaggio si porta lungo lo seccato april galaxy nei confronti di angel draw quindi scendo io ancora rose from desert quindi giorni di neve a largo di tutti il recupero cuore di pinto siamo a 400 dal palo con angel draw sotto attacco di scendo io scendo io sta passando in vantaggio nei confronti di angel draw a largo cerca di recuperare cuore di pinto poi giorni di neve siamo a nel tratto finale con scendo io che si mantiene in vantaggio nei confronti di angel draw nel tratto finale scendo io si impone su angel draw mentre al terzo posto risale cuore di pinto su giorni di neve rivediamo ora le immagini che la regia ci ripropone con il numero 6 e francesco dettori a bersaglio scendo io numero 6 dello schieramento si impone in questa terza corsa di agnano sposto d'onore l'uno di angel draw mentre al terzo posto all'esterno risale il 3 di cuore di pinto quindi 6-1-3 il probabile e ufficioso arrivo della terza corsa di napoli